Allora, Letteraria torna nuovamente a far sentire la sua voce al grande pubblico fanese. Certo, le giornate di venerdì, sabato e domenica 6, 7, 8 ottobre vedranno nuovamente Letteraria protagonista nella città di Fano. Letteraria è un premio di narrativa edita nell'ultimo anno, strutturato in due sezioni, una narratori italiani, autori, e una invece autori stranieri in traduzione. La peculiarità di questo premio è il fatto che la giuria è costituita dai gruppi di lettura che spontaneamente si formano all'interno delle scuole superiori della provincia di Peserurbino. I ragazzi infatti garantiscono un ugual numero di letture a tutte le opere in concorso, quest'anno 67, inviate dalle più importanti case editrici italiane e gli stessi ragazzi appunto decretano le due cinquine finaliste. E solamente nella serata di sabato 7 ottobre alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano verranno proclamati i due vincitori. Autori e traduttori appunto. Comunque tutto il programma, compresi anche i protagonisti di questa edizione, è visionabile immagino da qualche parte? Certo, soprattutto nel nostro sito www.premioletteraria.com e anche nei vari punti della città come la Mediateca Montanari, Biblioteca, dove sono presenti i vari opuscoli informativi. Venerdì e sabato pomeriggio ci saranno due lezioni magistrali, venerdì alle 18.45 di Salvatore Basile che racconta come i testi possano essere anche sceneggiati.